A quattro giorni dall'inizio degli incendi che hanno devastato l'isola di Tenerife, alle Canarie, le fiamme non sono ancora state domate. Eppure è già possibile capire la portata del disastro. Sono almeno 3.200 gli ettari di vegetazione completamente distrutti, circa 3.000 gli evacuati e 4.000 i residenti invitati a restare al chiuso nelle loro case. La situazione più delicata riguarda la località di La Esperanza, nel comune di Rosario. Ma nelle scorse ore sono stati evacuati anche i residenti di Arrate, La Vittoria, Santa Ursula, Acafona e Civisaie. Domare le fiamme risulta complicato perché queste vengono alimentate dal vento tipico delle Canarie e perché la vegetazione sta andando a fuoco in un'area caratterizzata da gole ripide e inaccessibili. Fernando Clavico, presidente della comunità autonoma, non ha usato mezzi termini ed ha messo la difficoltà della situazione. Per il governatore, l'incendio di Tenerife è il più complicato tra quelli affrontati dalle Canarie negli ultimi 40 anni. Le fiamme continuano ad estendersi ad un ritmo troppo elevato rispetto a quanto possono i vigili del fuoco, anche se stanno rallentando rispetto alle prime ore. Ma i danni sono comunque destinati ad aumentare nel prossimo futuro. Come se non bastasse, i residenti sono stati sollecitati dai vari comuni ad un consumo responsabile e parsimonioso dell'acqua potabile, specialmente per quanto riguarda piante, piscine e giardini. Un invito alla ragionevolezza e al buonsenso per evitare di dover arrivare al razionamento idrico.